A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di controllo del Green Pass negli esercizi commerciali e non solo, i dubbi non mancano. È il caso ad esempio delle pizzerie da asporto. Si tratta di vendita di beni di prima necessità oppure di ristorazione o ancora vanno trattate come semplici negozi. Ovviamente le verifiche sono diverse in base all'inquadramento e anche per gli addetti ai lavori non è sempre facile dare risposte certe. Prima della fine del mese di gennaio in tantissimi chiamavano per capire come avrebbero potuto organizzarsi per fare i controlli a tappeto a tutti quelli che entravano. La modalità campione certamente lascia un respiro organizzativo maggiore e ha messo gli operatori in un ambito di maggior serenità. Come sappiamo sono sufficienti controlli a campione mentre restano esclusi dalla verifica Green Pass. Prodotti alimentari, il carburante, prodotti medicali, ottici nei quali l'accesso ovviamente continua ad essere garantito sistematicamente a tutti. Ma c'è un altro aspetto da considerare. Come fa il commerciante a dimostrare di aver effettuato i controlli a campione? Noi in questo siamo intervenuti più e più volte ribadendo la necessità per quei commercianti che decidono di fare controlli a campione, che a questo punto sono secondo me la maggior parte, di dotarsi di una modalità organizzativa. Quindi in qualche maniera di formalizzare la modalità che attueranno per fare i controlli a campione. Decidono di controllare tre persone ogni dieci, quattro persone ogni mezz'ora, basta che questo venga formalizzato. Qualche commerciante ha comunque deciso di effettuare il controllo Green Pass a tutti i clienti.